Nel calcio purtroppo in vino non si possono, ma nemmeno in Serie A, non si possono portare le scritte sulla maglia dei nomi, bisogna lottare, bisogna dimostrare sul campo, avere quel senso competitivo che è anche un po' la bellezza del nostro lavoro, perché si vive di competizione, si vive di sfide, si vive di capacità di sovrastare l'avversario, quindi se non c'è questo spirito diventa difficile qualsiasi impresa. I problemi è meglio averli, perché poi credo che siamo veramente solo alla prima parte del campionato, il campionato è lunghissimo, ci sono impegni tra nazionali, infortuni, squalifiche, tutte queste gare da fare, l'abbondanza non è un problema. Andiamo a trovare una squadra che intanto recupera tanti giocatori, potrebbe aver sfruttato anche questa pausa come recupero e preparazione a questa partita. Però c'è una squadra che secondo me stava facendo bene, io gli ho visto fare delle belle partite, quindi è una squadra difficile, Novellino è un tecnico che parla per lui quello che ha fatto nel calcio, e quindi sarà veramente un impegno difficile, ma noi ci siamo abituati e poi sono anche quelle prove, come avevo detto col Frosinone, che ci testano, ci fanno anche capire quanto stiamo migliorando.